Musica Hello guys, RandiRana here, benvenuti in questo nuovo video qui su Diversity Siamo di nuovo a sclerare con i nostri tappetonsi, tampetonsi, pansi ponzi ponzi po E ho iniziato a andare un po' avanti, infatti qua mi sono portato avanti e ho messo il bianco Mi sono studiato un metodo per andare avanti Il quale è praticamente segnarmi su 11, cos'è 11? Perché qua questo si chiama 11? Non si chiamavano così Aspettate, questo si chiama weight, ok? Ed è blu Questo come si chiama? Weight, weight blocks E questo è arancione Moll E questo è viola Stol, non lo so bro, sinceramente Non ne ho proprio idea Eh, perché quello era bianco, era giusto bros Ah, forse ho dato il grigio Allora, per non stare qua tutto il tempo, adesso io vi farò vedere solamente quando capisco che cosa c'è Quindi, adesso mi metto qua, mi faccio con il mio bellissimo, i bellissimi appunti Quale colore ho messo ogni volta e quale no E quindi vediamo un attimino che cosa riusciamo a fare Vi voglio far vedere solamente quando riesco ad andare avanti Anche perché spero non manchi molto Quindi a dopo, a dopo e a quando riuscirò ad andare avanti Ok bro, allora dopo il bianco in teoria dovrebbe venire il giallo Proviamo eh No, neanche Porca puttana Non so più che cazzo provare Mi sa che li ho messi tutti stavolta in quel cosa Ci riprovo, ci riprovo, ci riprovo Ok bro, sono andato avanti Il colore era nuovamente nero E qua che cazzo dobbiamo mettere? Marrone Perché? No, aspettate allora Adesso però lo rifacciamo tutto insieme così ve lo faccio vedere Eh, viola Nero Bianco Eh, nero Ok Non capisco cosa dobbiamo fare qua però Cioè vorrei, vorrei capirlo Vorrei proprio capirlo Cazzo devo fare Upon the floor Ah, forse Aspettate, forse è così? No? Sì Grande Stanza numero uno e Ah, ok Eh, oh Pecorella Vieni qua Che cazzo Ok Quello Non devo farlo Pecorella Vieni qua Dove dobbiamo portarla ad aprire? Che cosa? Ah no, si è chiusa E mo' come faccio? Ah, un'altra pecora Ok Vieni qua Oh signore Mi è morta la pecora bro Mi è morta la pecora È fichissimo sto pezzo Ok Allora, fermi No però eh Ha fatto apposta Via qui Ok Po Via qui Ok Possiamo metterne una qua volendo No, però forse no Mettiamola in ordine Via qui Bella da papino Qua Cosa succede tu? Tu nulla Benissimo Perfetto Vieni qua Bella da papinus Vieni qua nel fuocarellino Brava, brava Ecco Te ma è morta quella Mannaggia te Mannaggia te Mannaggia te Via qua Te col pelo grigio Bravissima Allora Aspettate eh Renna il pecoraio Non ce ne avevamo abbastanza Le pecore in ftp bro Ok Adesso Io la metterei qui No Sei un cattivone Di merda Che cosa succede Se lo metto qua E mi da fuoco La prima Ok Io immagino Che debbano essere Promete tutte Sinceramente Però E guarda Mannaggia Sto cazzo Via qui E tu qui Aprite Grazie Vaffanculo 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 Pecore Vaffanculo Che cosa succede qua Cassa 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 Ok E qua c'è Ender Blah 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 Micelium Neve Albero E nether Strax Brack Lack Vediamo Cazzo Devo fare Che cazzo Che cosa No che cos'è Cosa sarebbe Tutto ciò No 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 Aspetta Cosa devo fare Io Cosa devo fare Io Bro non lo so Bro non lo so No di nuovo i colori No però eh Ma Il problema è che Non hanno un senso Logico Ah ok ma Quello che ho messo Se n'è andato Il nero è andato Proviamo a mettere In ordine Che stanno qua Viola Poi che ci sta Viola Bianco Ok Celestino E arancionino Niente Niente Ma se li mettessi Tipo tutti Che cosa succede E poi me li faccio ridare Proprio molto Bug abusing Giusto per capire Che cazzo devo fare C'è proprio GG a me Vediamo 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 se si può fare Io Penso che si Penso che si può fare Vediamo se si posso Ok Penso si possa fare Brothers Ma non lo so I don't know I don't know Vediamo un po' Vediamo un po' Datemene ancora Ok Passerà quello che deve Passare per ognuno di loro No Non so quale sia Però Lo possiamo fare così Penso Spero Ehi Hello Qual è il senso Di questa cosa Oh signore E E I Biom 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 Ok fermi Sto cercando di capire Bioma Allora Allora Forse Vanno messi Per La lingua Mettiamo un attimo Inglese Inglese Così ci facilitiamo La storia Perché sono alcuni colori Che non so come Ok sign Ok Allora Abbiamo detto E Abbiamo un colore Che inizia per E E Black Brown No Ok Allora non può essere questo M O I B Bioma Raga Questi hanno ripreso Aspettate che chiudo la finestra Ritorno subito Ok bro Allora Ho chiuso la finestra Ma si sento comunque Il trapanuz E quindi Il trapanuz si sente E stavo pensando Se abbiamo Qua Abbiamo Ah no Così Biome Ok Dice qualcosa Forse è qualcosa Con i biomi Visto che Non siamo In un bioma Ecco Vedete che Se andiamo Da una Da una Come si dice Da una L'ana All'altra Cambia Il cielo Quindi forse Si fedevano con F3 Vediamo Ah Ecco Vedete Foresta Sky Hell Taiga Mushroom Oh Allora Il nero È per la foresta Quindi Nero Qui Poi Viola È per Il Sky Quindi Come Sky Sky Che cazzo è Sky Sky Che cazzo è Sky Ok Vediamo Questo cos'è L Ok Taiga Sarà I don't know Chiedo Venia Ma Allora Forse Forse Non ho ben capito Allora Questo è Forest Ok Foresta Sarà sicuramente Quello Sky Boh Proviamo Ah forse Questo lo intende Non come neve Ma come nuvola Va bene Proviamolo Viola Ok Il bianco All'inferno Quindi qui Bianco Ok Il blu Nella taiga Il blu Abbiamo detto Questi due Nella taiga Se questo Me lo dà come Mushroom Island Sarà questo Blu Azzurro Sarebbe E qua Arancione Ragazzi è giusto Ragazzi è giusto No ragazzi Sicuro è giusto C'è qualcosa che ho sbagliato io Allora Riproviamo Ridammi il tutto Grazie Allora Abbiamo Nero Per La foresta Allora La foresta A casa mia È questa Giusto 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 Cioè Casa Mia Foresta Questa No È qui Foresta Ok Benissimo Poi abbiamo Il viola Che è per Sky Ma se questo non è Sky Quale cazzo è Sky Sentiamo I rumori sembrano promettenti Bianco In Hell Giusto Ok Blu In Taiga 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 Tra questi Questi tre sono andati Quindi Taiga Questo Per forza Ed è Light Blue Sicuramente è Light Blue Fai il tuo rumore Ah Ho sentito quel Che non mi piaceva È questo arancione Che è giusto Allora Quello sbagliato Forse è che Qua non ci dobbiamo mettere nulla Possibile mai Proviamo Allora Nero Ehm No Nero Ehm Datemi queste Ah nero Ok Poi Ehm Viola Poi bianco Poi Qua ci va sicuramente L'arancione E Ehm 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 E forse qua ci va di nuovo Ehm L'azzurro Forse ce ne vanno due qui no? No No Ok Allora Qua va il nero Qua va il viola Qua va Ehm Che cazzo c'era dopo? Il bianco Ok Qua va l'arancione Assolutamente E qui va l'ultimo colore Che è il light blue Per forza Cioè non è che ce ne stanno altri Se poi io ho sbagliato il ragionamento Se io ho sbagliato Foresta Deser Questo è Sky Ok Sky Quello deserto sarebbe tutto il resto Ok Sky El Taiga Taiga E Mushroom Island Che è questa Qua non ce lo dà Perfetto Ehm Non lo so 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 Vabbè ci provo ancora un po' Appena riesco a capire Andiamo avanti E poi vi spiego Ok bro Ci sono arrivato Allora Vi faccio vedere qual era il mio errore Se andiamo a vedere Forest Ok Poi fa Sky Poi fa El Poi fa Taiga Taiga Ok Ehm Non è Non è assolutamente Ehm Non è assolutamente Foresta Neanche ovviamente Land Ma Taiga E quello là con Il Con la neve Quindi Vi facendo tutto a capo Foresta Va sicuramente il nero Ehm Questo va sicuramente In Sky Sky a questo punto Penso sia questo Sinceramente Ehm Bianco Andiamo a mettere El Perfetto Questo che è Taiga Ehm Andiamo a metterci Il light blue E nell'ultimo L'arancione Dimmi Sì 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 No ancora un altro blocco Così No No Brothers La disposizione Disposizione uguale A quella vecchia Che cazzo è Int Osserva e conta Osserva e conta Che cazzo No bro Non capisco No bro non capisco Ok Always Smooth 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 No allora Eh Bianco Sì Arancione No Bianco No Bianco È giusto No Eh bro Questo mi sembra complesso E lungo Come tutto il resto Della mappa Quindi ci vediamo In un prossimo video Mi raccomando Lascia un sacco di mi piace Un sacco di commenti Io mi sto ammazzando Per fare questa mappa Perché è difficile Davvero davvero Molto difficile Quindi è molto carina Scaricatela Quindi niente Enjoy E credo che sia con voi Bye bye